Sono stata scaricata dopo sei mesi con un sms. Ho chattato senza saperlo per due ore con un ottantenne in cerca di una nuova giovinezza. Ho collezionato mille amici virtuali che nemmeno conosco. Mi sono affidata ad un assistente virtuale, confidata con uno psicologo virtuale, ho fatto anche sesso virtuale. Ma la casa è un'altra cosa.